Presidente Di Marco, nuova vita per la piscina provinciale si riparte con questo progetto importante che vede la provincia ovviamente capofila e poi la società pallanotistica del club acquatico e anche la WISP Abruzzo Molise. Vita nuova e vincente direi perché parte una gestione altamente qualificata che consente alla piscina provinciale di tornare a essere non solo punto di riferimento per l'area in cui incide ma per tutta la provincia perché qui parliamo di alte professionalità che si sono cimentate nell'attività sportiva acquatica e che quindi consente a noi come provincia di avere quella certificazione che avevamo chiesto con attenzione da tempo e che grazie a loro abbiamo potuto rintracciare e avere a disposizione. Adesso ci si aspetta una grande collaborazione con l'istituto Volta presente proprio lì dove c'è la piscina provinciale e di questo è tutto caratterizzato nella procedura di gara ma direi che consentirà ai ragazzi di ultraprovincia di poter contare su un presidio di questo tipo che certamente qualificherà non solo gli amatori ma soprattutto coloro che vorranno eccellere in questa attività sportiva e noi di questo siamo molto orgogliosi e soddisfatti.